buongiorno eccoci qui alla grafica e stampa, oggi volevo presentarvi il nostro nuovo prodotto dei cartoncini stampati su sirio pearl da 350 grammi questo è l'effetto hanno un effetto metallizzato e al loro retro sono forniti con un adesivo in modo che possiate attaccarli ovunque voi riteniamo grazie a tutti